e lo l'ho detto anche agli altri insomma se lei abbia o meno aspetta lo dico con parole che non risultino offensive asciuga asciuga tantissimo c'è un momento durante l'eclissi topico in cui ti chiedi ma questa cosa lei la voleva in fondo oppure no Ho choro… euch oh… outfaxo… jealousy come true… euch oh… abbiao Il a97 streets… theory come true…bacho... Ichanil also nonита chi ni Grazie a tutti.